Le 5 serie tv degli anni 80 più famose Lascia like se anche tu sei appassionato non di queste serie tv moderne ma di qualcosa di più datato Al quinto posto troviamo i Robinson Al quarto posto troviamo Supercar Al terzo posto troviamo i Team Al secondo posto quello che mi è piaciuto meno so che avrò tanti fan inferociti Star Trek The Next Generation Faccia seguire sul nostro canale YouTube e faccia commentare con la tua serie tv degli anni 80 preferita E al primo posto ovviamente Baywatch